Nell'ambito di Mediterranea si tiene oggi in Camera di Commercio di Pescara questo importante appuntamento che vuole vedere questo gemellaggio tra l'Abruzzo ed il Marocco, un incoming. Di cosa si tratta in particolare? Ho la fortuna di avere con me una delegazione molto importante di imprese marocchine del settore agroalimentare. Perché no, cominciare questo scambio proprio dalla cucina, per poi arrivare a degli scambi commerciali, degli scambi che speriamo siano sicuramente proficui per tutte e due le controparti. Il Marocco è molto interessato alle eccellenze italiane, un paese molto attento alla qualità, quindi sono veramente sicura che ci saranno, ci sono tutti i presupposti per una collaborazione sicuramente importante. Abbiamo ricevuto delle delegazioni di operatori abruzzesi in Marocco e siamo comunque sempre aperti, insomma, come Camera di Commercio, ma è un crescendo, diciamo. Saremo veramente molto contenti di questa partnership tra i nostri paesi. Poi c'è una mancanza, un vuoto per quanto riguarda l'interesse delle aziende italiane, soprattutto in queste zone del sud Italia, del centro d'Italia. Abbiamo tantissime aziende italiane presenti nel mercato marocchino, ma la maggior parte sono del nord dell'Italia. Invece i prodotti di queste zone sono dei prodotti di altissimo livello.